L'ultima ora ed è un'operazione degli agenti della Polizia di Stato di Bergamo. Un minore, ritenuto un sostenitore del terrorismo jihadista, è stato arrestato dagli agenti. L'accusa è quella di associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia e istigazione a delinquere. Il monitoraggio del giovane, residente nel Bergamasco e di origine straniera, è stato eseguito dagli agenti della Digos ed è iniziato dopo un processo di radicalizzazione alla pubblicazione sui social di video di propaganda jihadista e poi le indagini hanno accertato che il giovane era pronto addirittura a passare all'azione elaborando il progetto di un attentato incendiario nella zona in cui vive, quindi nel Bergamasco, è stato arrestato dalla Polizia.